Salve a tutti. Come passare un martedì sera alternativo? Tirare su? Quanti? 600 metri di rete? È un caso di bracconaggio, quello testimoniato in questo video di un pescatore sportivo nel lago di Montedoglio. Il filmato documenta la presenza di reti da pesca illegali poste a circa 40 centimetri sotto il pelo dell'acqua, lunghe almeno 500 metri. Ecco, questo è quello che si può trovare al Montedoglio. Pesca abusiva a tutti gli effetti è portata avanti da una vera e propria organizzazione. I pescatori di Frodo potrebbero muoversi di notte con tre gommoni per stendere le reti e un furgone frigo per caricare il pesce. Quintali di pescato tra carpe e lucci. Nel video l'operazione di questo pescatore che è riuscito a rilasciare centinaia di carpe rimaste intrappolate, alcuni purtroppo erano già morti. C'è un'indagine aperta sull'episodio portata avanti dai carabinieri forestali, cinque le persone responsabili che dovrebbero essere già state individuate.